importante è il fatto che un fotografo, quest'anno ci ha lasciati un fotografo che non è del Taormina o del cinema a Taormina, è un fotografo che era di tutti i cinema, tutti i festival del cinema europei, era presente ovunque, noi ci siamo incontrati per l'ultima volta a Cannes, lui era uno dei fotografi della nostra squadra per cui lo vogliamo ricordare anche per questo, era stato già assegnato un posto al Teatro Antico e quel posto resterà vuoto ricordando lui, Video Back quest'anno ha voluto anche apportare una piccola modifica, tutti i fotografi a differenza degli altri anni non saranno seduti in prima fila, è stata dedicata una tribunetta centrale, chiaramente dopo che mi sono consultato con i tecnici è stato scelto questa posizione centrale, è quella tribunetta, noi l'abbiamo intitolata al nome di Pietro Cocce. Passo la parola.